Capolista per una notte. La Dinamo, dopo l'espload di Pistoia sabato scorso, ha mantenuto la vetta della Serie A lungo l'arco di 24 ore, prima che la Virtus Bologna ristabilisse le distanze vincendo di misura ieri contro Trento. Titolo platonico, quello d'inverno, dal quale peraltro negli ultimi otto anni non è comunque conseguita la vittoria finale del campionato. Il banco visto contro l'Oriora ha sofferto per tre quarti del match, tirando la volata all'ultimo con la serata di grazia di Bilan e Spissu, giustamente messo quest'ultimo tra i papabili in Eurolega e da Pozzecco in conferenza stampa. Secondo posto in classifica per i sassaresi, frutto di 13 vittorie su 16 e soprattutto del filotto nelle ultime sette. Una marcia inarrestabile che conduce i sardi dritti alla Final 8 di Coppa Italia in quel di Pesero tra un mese. Ai quarti l'attende l'Eppi Casa Brindisi, appena battuta in trasferta nella dodicesima giornata, con una delle prestazioni migliori dei Biancoblu. Precedente decisamente meno favorevole invece è quello della scorsa edizione di Coppa, quando i Salentini si imposero in semifinale per un punto. Agli emiliani della Virtus toccheranno i campioni d'Italia della Reier, fin qui molto al di sotto delle aspettative. Olimpia contro i campioni uscenti della Vanoli e Brescia Furtituda, completa nel tabellone dei quarti. Un'altra Coppa, stavolta europea, all'altro fronte della stagione Dinamo. In programma domani allo standa la terza giornata di ritorno del gruppo A, dove il roster sardo comanda in virtù di sette vittorie e due sconfitte davanti ai turchi della Telecom e agli spagnoli della Manresa. Una sfida dietro la quale, in caso di successo, si aprirebbero con certezza matematica le porte di playoff.